Partite intanto in questo istante, il Savoia ha già recuperato palla dopo che l'Elicata aveva battuto il calcio d'inizio. Guarro chiama uno schema in area di rigore, mi sono di capo a Salvatore, Amoruso e Savarese. Il tocco invece è per Nasto che prova il destro! Savoia in vantaggio! Savoia in vantaggio con il primo centro in stagione di Angelo Nasto, centrocampista che sta ben figurando. che premia il numero 4 Vitale, attenzione verso Sana, poi la battuta e il pareggio dell'Elicata. Il pareggio dell'Elicata, Vitiello si fa infilare da un sinistro improvviso per cercare di fermare il sinistro di Guarro che parte in questo istante. Parabola morbida ma leggermente alta, poi di capo che poi allarga tutto bene sulla sinistra per Viscido. Savarese in area di rigore, attenzione, Padulano non riesce ad approfittare di un favorevolissimo cross. Fa fuori, poi serve di capo, siamo al limite dell'area di rigore, il servizio sulla sinistra per Viscido. Il cross basso, Savarese in area, il sinistro, fuori, grandissima chance per il Savoia. A Moruso, si fa vedere Lettieri sulla destra, Moruso invece preferisce andare per vie centrali servendo Savarese. Savarese, attenzione, al limite per Padulano, prova il sinistro Padulano, ancora una volta fuori. Pronto per la ripresa del gioco qui al giro, sempre collegati con l'impianto sportivo di Torre Annunziata. Pronto con il mancino Riccobono che invece prova direttamente a calciare a giro in porta, palla però alta. Tutto pronto intanto per la battuta di Guarro, quattro uomini in barriera, distanza comunque ragguardevole. Guarro invece tocca per Malafronte, il gran sinistro! Il tocco all'indietro per Palonetto, spostato a sinistra, attraversone con il destro, esce avventato ma efficace. L'intervento del portiere del Licata, battuta del numero 13 Ignazzitto. Il lancio in avanti verso Sani che ora è l'unica punta e prova con una rovesciata che stava per cogliere impreparato Vitiello. Ancora un intervento un po' goffo ma efficace, ora calcio d'angolo, il traversone al centro per Sani, gol! Gol del Licata che passa sorprendentemente in vantaggio. Che sia Guarro a battere con il mancino, posizione centrale più o meno dai 35 metri. Parte Guarro con il sinistro! La parata però di Valenti. Parte Montella che preferisce giocare ravvicinato verso Vella. Prova il sinistro Vella, palla che sfiora il palo giudice. Palonetto centralmente ancora per Di Capua. Di Capua ha il servizio centrale verso Manfrellotti. Colpo di testa, mal a fronte in aria, il sinistro fuori di Palonetto che stoppa il pallone. Opera il traversone verso Manfrellotti anticipato, poi la mette fuori Montella. Palla che però resta lì al limite. Padulano, ottima l'apertura per Savarese. In aria il sinistro e il pareggio del Savoia. Il pareggio della Savoia, Giuseppe Savarese di sinistro sfruttando l'intelligentissimo assist di Padulano. Al 34esimo della ripresa si ristabiliscono dunque le distanze 2 a 2. Il tocco è per il numero 18 Vella. Vella nuovamente per il capitano. Grillo, traversone, verso Sani, tutto solo in aria. Colpo di testa fuori. Così come nell'occasione del pareggio di Savarese. Anche lui tutto solo in aria. Palonetto, attenzione, in aria di rigore. Il sinistro rete, rete, pallonetto, pallonetto fa esplodere il giro. Ed Amura improvvisa ripartenza del Savoia. Gol di Domenico Pallonetto entrato nella ripresa. Calcio di punizione per il Licata. Valenti prova a buttarle in aria di rigore. Attenzione, Vitiello è fuori dai pali. Savoia 3, Licata 2, emozioni a ripetizione al giro. Traversone al centro. È miracolo questa volta di Vitiello. Guarro di testa, attenzione, lo giudice. 49 minuti, 35 sul cronometro. Traversone al centro. Attenzione verso Bella, che cade in aria. Proteste leggere.